Hanno festeggiato sabato scorso la vittoria dell'edizione 2017 del Carnevale di Sciacca, i componenti dell'Associazione Culturale Saranno Famosi 2007, che con il carlo allegorico Raggi di Luce ha ottenuto, come è noto, il primo posto al concorso riservato alle opere in cartapesta relativo alla festa che si è conclusa lo scorso 28 febbraio. Una giornata arricchita da una ulteriore vittoria. Durante la festa, organizzata all'interno dei locali dove è stato realizzato il carro allegorico e dove era possibile sabato scorso continuare ad ammirare alcune tra le componenti più belle del carro, tra brindisi e carne alla braccia offerta ai tantissimi visitatori ed appassionati del Carnevale, c'è stata anche la cerimonia di premiazione del carro Raggi di Luce, risultato vincitore del sondaggio lanciato dalla pagina Facebook Carnevali d'Italia. La soddisfazione dei componenti dell'associazione saranno famosi. Per noi vincere già intanto il Carnevale di Sciacra è importante, perché quest'anno ci sono stati dei carri di alta qualità e quindi a maggior ragione il nostro vittore è stato più importante. Poi vincere sul sondaggio il Carnevale d'Italia è ancora più bello forse, perché lì è la gente che vota, è la gente che decide e quindi il nostro carro il risultato è più bello. E questo ci riempie di orgoglio, è un onore per noi vincere questo premio. Stefania Di Giovanna, tecnicamente come funzionava questo concorso? Sì, allora tecnicamente era un sondaggio che abbiamo lanciato per dieci città italiane, tra cui anche Sciacra e il suo appunto Carnevali d'Italia che ormai è il più grande portale italiano sui Carnevali italiani. E quindi si decideva, si chiedeva alla cittadinanza di votare il carro più bello dell'edizione appunto del Carnevali di Sciacra. Hanno vinto i ragazzi, l'associazione saranno famosi, quindi con grande piacere. Noi di Carnevali d'Italia li stiamo premiando per questa grande vittoria, sia per la vittoria nostra del gruppo che per la vittoria reale. Michele Cocco, all'interno di questo locale c'è ancora Beppe Grillo che si muove, la Raggi è alle nostre spalle, la Lupa in movimento, ma insomma è ancora Carnevale? Per noi è sempre Carnevale, noi siamo contenti quando ci giudono l'opinione pubblica, noi abbiamo vinto su Facebook sia come allegoria, movimenti, architettura, non vinto, stravinto. Poi oggi ci è arrivata la notizia della signorina di Giovanna, Carnevale d'Italia, cioè i primi dieci Carnevali d'Italia parliamo, non parliamo soltanto Carnevale di Sciacra, i dieci Carnevali d'Italia, abbiamo stravinto. E questo è il primo posto della nostra vittoria. E questo è il primo posto della signorina di Giovanna, è il primo posto della signorina di Giovanna. Grazie a tutti.